si che quando inizia a partire attenzione so ma partiene e poi cominciai a portare su Giovanni dove stai? Pietro sei in tutte le tv adesso lo devi passare però salvia, comitato pro salvia possiamo ricollegare su chi è o con il gno? sulle registrali eoliche a cavallo a noi colleghi pure la pune no vabbè la pune io so che cosa abbiamo andato che si rimane